Buona giornata e bentrovati all'appuntamento con le previsioni del tempo. Cominciamo con la situazione generale in Europa. Un'area di bassa pressione si sta avvicinando lentamente verso le zone dell'Inghilterra, con qualche copertura nuvolosa su Francia e gran parte della Germania. Nelle regioni italiane condizioni generali di bel tempo, anche se con qualche nuvolosità. Commissioni da tempo per il 1 novembre 2014, caratterizzata da una situazione generale di cieli generalmente sereni su tutta la penisola, con qualche nuvoletta in Calabria. Temperature comprese tra 6 e 23 gradi. Da notare il drastico ridimensionamento delle temperature, specialmente le minime, con venti di direzione medio-alta e in mari mosso l'atriatico, poco mossi o molto mossi gli altri mari.